Pronto? Sì? Un gigante verbuto dall'aria non molto allegra, sì mi pare che ci sia Ehi Charlie, ti vogliono al telefono, la linea te la passo in cabina Che parla? È una chiamata con addebito per il signor Charlie Firpo, è lei il signor Charlie Firpo? Sì Accetta l'addebito? Chi è che chiama? Un certo giorno No! Sì, 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 me lo passi Bene signore, allora introduca nell'apparecchio 50 cents Sì, maledetto Pronto? Signore, avevo detto 50 cents e non 25 Sì, altri 25, si accorgono di tutto Ecco Pronto? Pronto Charlie, sono Johnny, come stai? Senti Farabutto, dov'è il mio camion? E tu dove sei? Come sai che sono qui? Non sarai mica inquieto con me? Chi? Chi? Io? Oh no, ma che dici? Sapessi che voglio che ho di stringerti al petto Scusa, di un po' caro, come posso raggiungerti? Eh, non sto molto lontano Charlie, so che sei rimasto senza lavoro, cercano gente allo spacciodromo di Eli, vuoi che faccia il tuo nome? Sì Ma vogliono gente in gamba però Ah sì? Io invece voglio solo te, adesso per favore, per favore, dimmi dove sei in questo momento Scusi signore, devo introdurre altri 6 dollari e 25 cents per parlare Ciao Charlie, ciao, ciao, speriamo di vederci il testo, devo scappare No, 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 non scappare Un momento per favore, signorina, 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 lo fermi, signorina, signorina Johnny, tu, Johnny, tu, ah, Johnny Oh, ti ammazzo